Bene amici e finalmente IMSS da qualche ora sta iniziando ad aggiornare il dettaglio pensionistico alla mensilità di dicembre 2023, molto attesa perché è la più ricca dell'anno, anticipo per equazione, arretrati, tredicesima, bonus eccetera eccetera. Vediamo quindi come verificare in anteprima questi nuovi importi che troveremo nel prossimo cedolino maxi di dicembre e avete sentito bene. Ho due modi da mostrarvi per verificare gli importi in anteprima. Seguitemi dunque fino alla fine mi raccomando anche perché il secondo metodo è super facile. Mettete ovviamente un bel mi piace, io sono Mr. Lul, partiamo per prima cosa verificando il dettaglio pensionistico. Fascicolo previdenziale, approfondisci, utilizza lo strumento e poi clicchiamo su prestazioni, pensioni, lista pensioni e qui troviamo come vedete il dettaglio pensione aggiornato al 12 2023. Ovvio se andiamo sotto manca il totalone ormai cancellato da IMSS da un paio di mesi. Come facciamo quindi a vedere l'importo in anteprima? Ho due metodi da farvi vedere, uno facilissimo e uno un pochettino meno intuitivo. Partiamo da quello un po' meno immediato ed intuitivo. Qui purtroppo tocca aspettare lo sblocco del modello Hobbys 2023 che non appena verrà aggiornato ci riporterà il valore aumentato sia della tredicesima sia della mensilità di dicembre. Vi basterà dunque quindi poi sommare i due valori lordi e aggiungere gli arretrati di perequazione. Come calcoliamo gli arretrati è facile, basta fare il lordo di dicembre meno il lordo della pensione di novembre, quella differenza di pochi euro la moltiplicate per 11 e così abbiamo anche l'arretrato. Sommiamo tutto e abbiamo calcolato il nostro totalone alternativo lordo. Ma ora vi faccio vedere il metodo facile, anzi super facile. I patronati o comunque gli intermediari autorizzati accedendo con le loro credenziali vedono ancora il dettaglio pensionistico alla vecchia maniera quindi con l'indicazione degli importi e anche del famoso totalone. Di conseguenza potete mettervi in contatto e chiedere direttamente al vostro referente patronato di fiducia di farvi una verifica ed eventualmente se non volete andare di persona magari anche di inviarvi lo screenshot del vostro dettaglio. Ovvio prima era più comodo perché potevamo verificarcelo da soli l'importo e il ma IMS ha scelto evidentemente deliberatamente di togliere al cittadino questa possibilità. I 20 poi con il cedolino in mano potremo andare nel dettaglio della busta e vedere anche il bonus 154 euro sulla tredicesima, eventuali rimborsi 7,30, la quattordicesima per chi abbia compiuto 64 anni post luglio e questo era il nostro video flash. Mettete un bel mi piace e condividete questo video se pensate che possa essere utile anche ad altri, credo di sì, parola d'ordine, totalone rapito, IMS rimetteci sto totalone altrimenti ogni mese è una paranoia. Alla prossima un abbraccio da Mr. Lull.